A sinistra almeno 3-2-3-3 Allora, eccoci qua, abbiamo appena finito di registrare un video che vi lascerò qui sopra Però stiamo chiudendo questa sessione di allenamento, quindi in questo video, con un tie break a 10, anzi due tie break a 10 Solo che io gioco con la sinistra e lui gioca normale, chi perde passa sotto la rete Allora ragazzi, ho appena aperto il nuovo gruppo Telegram, dove non solo pubblicherò ovviamente i miei contenuti YouTube Ma ci saranno davvero tantissime informazioni e dove potremo soprattutto andare a scambiarci un po' le nostre idee e i nostri punti di vista Vi lascio il link qui sotto in descrizione per accedere al gruppo Perchè circo la destra? Perchè circo? Astatto maledetto è io che mi sono... No, è troppo... Sto di rovescio? Faccio fatica No, allo stesso inizio fa cagare Facciamo attenzione aiuto... No, ma cos'è il rovescio? Non, ma cos'è il progetto... Unito confermato Unito confermato Ehi! 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 Oh! Ehi! 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 Il primo try break è finito. gioco meglio con la sinistra fa la corte che con la tex grazie 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 no qui c'è tensione nell'aria male lunga il buon Nino ci mostrerà come andare sotto la rete quanto la sento sulla palacorta? vaffanculo è più forte con la sinistra con la sinistra almeno 3-2-3-3 ho la sinistra non c'è niente da fare come ho detto io sono proprio su cazzo allora ragazzi io vi aspetto tutti i giorni sempre alle ore 21 per un nuovo video dal lunedì al venerdì mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale è davvero molto importante ciao